E' esciuto pezzo la donna, e pure tutta la comunale amministrazione, e pure lo sindaco l'OSCC, ma vuole una città a misura di uomo e di bambino, e poi ci vede pure un premio e cittadinanza, e non parlo su tutto il tempo che non avversa innanzo, ma se ciò, ma se io, se dico che ci dice l'amministrazione. E' benvenuto a tutti quelli che stanno qua e soprattutto un ringraziamento ai maestri che sono bravissime, non potevo mancare perché siete l'orgoglio di Napoli e in questo modo fate conoscere a chi ancora non l'ha conosciuto le tradizioni della nostra terra, quindi qui è semplicemente un ringraziamento e la gratitudine per quello che fate per la nostra amata città. Buon fine settimana a tutti!